Quando cala la notte, ogni città ha i suoi segreti. Ha delle sonorità pazzesche! Mi chiamo Sumiko Ivamuro, ho 85 anni. Dopo il tramonto, molte persone si trasformano completamente. Ci sono angoli nascosti nell'ombra che vale la pena esplorare. Ogni giorno bisogna lavorare con il sorriso. Alla mia età, più si è felici, meglio è. I giovani continuano a dirmi che ho bisogno di una vacanza, ma io rispondo, questo è un paradiso. Dove dovrei andare? Di notte c'è fermento. L'intera città è ai tuoi piedi, tutta da esplorare. Guidare un'auto che si illumina mi fa sentire come se fosse un pilota. La notte Manila è piena di gemme nascoste, tutte da scoprire. Di notte non dobbiamo essere chi ci viene detto di essere, ma chi vogliamo essere davvero. Quando si parla di musica coreana, tutti pensano al K-pop. Ma grattando la superficie c'è una fiorente scena in D.C. Si passa dalla modalità lavoro alla vita. Ho la pelle d'oca solo a parlarne. Quando il sole tramonta, tutto prende vita. Per me notte significa libertà. Questa città sembra prendere vita. E questo mi fa capire quanto io sia fortunato a vivere qui. E questo mi fa capire quanto io sia fortunato a vivere qui.